È un vezzo italico quello di fare polemiche, anche polemiche di basso livello che forse non meritano nemmeno una risposta. Noi quando eravamo all'opposizione avevamo criticato questo logo per una serie di motivi che sono non non riconoscere la grandezza di D'Annunzio. Io amo D'Annunzio tantissimo per cui seguo tutti i convegni che il dottor Tiboni ha organizzato nell'arco di tanti anni ma assolutamente non può dirsi D'Annunziana la città di Pescara. D'Annunziana è un aggettivo, di solito dovrebbe essere scritto con la D minuscola ma poi Pescara non è D'Annunziana. Pescara è la città di D'Annunzio quindi è un logo che ha in sé una serie di errori proprio madornali. Poi dal punto di vista estetico ci sembrava estremamente brutto ma soprattutto il nostro sindaco, l'avvocato Marco Alessandrini vuole tornare ad una sobrietà. Non vuole che i loghi identifichino un'amministrazione ma si ritorna allo stemma semplice della nostra città. Pescara da sempre onora D'Annunzio, Pescara a strade dedicate a D'Annunzio, il Centro Studi D'Annunziani sono 50 anni che fa questa opera di divulgazione scientifica sulla cultura D'Annunziana quindi non c'era bisogno di questo logo improprio, brutto e forse inopportuno. Sessore, Pescara è poi anche la città di Enio Flaiano. Come no, è proprio insieme a Tiboni che stiamo seguendo l'ultimo premio adesso che sarà internazionale dedicato a Enio Flaiano che quest'anno credo sia il cinquantesimo, stiamo organizzandolo facendo grandi sacrifici nonostante l'amministrazione sia un'amministrazione in grande difficoltà economica, su Flaiano noi puntiamo tantissimo.